benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto vero federico frusciante un canale dove si parla di cinema di musica di letteratura ma soprattutto di di roba appunto legata alla settima arte il frusciante al cinema quello che state per vedere alla prima opinione su un film che è appena uscito al cinema e che ho visto e del quale mi va insomma di dare la prima impressione come dico sempre la prima impressione comunque può cambiare e quindi insomma vediamo alla seconda terza visione che cosa può succedere in questo caso sono andata a vedere un film che aspettavo che aspettava un po tutto il mondo del maestro martin scorsese killers of the flower moon appunto con protagonisti leonardo di caprio robert de niro e lily gladstone in mezzo a un cast comunque che poi si allargerà tantissimi altri nomi martin scorsese non è che abbia bisogno di troppe presentazioni nel senso uno dei registi più importanti della storia del cinema uno dei migliori registi americani in vita e non che ci ha regalato opere di spessore di ogni tipo dagli anni settanta adesso praticamente e che con questo film è fortemente voluto scritto dal nostro insieme a eric rock tratto dal romanzo di david gran gli assassini della terra rossa ne porta appunto sullo schermo una tragica reale perché poi il romanzo è tratto da fatti realmente accaduti e storia successa praticamente in america dei primi del novecento perché è un film è in costume chiaramente un film che parla dei nativi americani e di una situazione veramente particolare che però rappresenta in un certo senso uno sguardo molto più ampio appunto sullo stermio di questa popolazione di questo genocidio e questo film è un film che se vogliamo è difficile da come posso dire mettere a confronto con altri film perché trattato in questa maniera veramente una delle prime volte forse come ho detto mi sembra che si possa ricollegare a qualcosa del genere segreti di wind river non tanto per la qualità che comunque è un bellissimo film anche quello ma per i temi trattati possono essere simili nel cinema di scorzese invece un film dove secondo me il grandissimo scorzese si sposta non cerca di rimanere sempre attaccato al vecchio stile anzi riesce a un'età insomma abbastanza elevata a tirare fuori una regia completamente innovativa anche per il suo cinema nonostante ci siano chiaramente i suoi chiari tratti distintivi in alcune carrellate movimenti di macchina chiaramente nella perfezione della messa in scena che lascia stupefatto ogni spettatore per un film che dura è praticamente tre ore e venticinque quindi un'operazione anche particolare difficile prodotta da apple insieme alla paramount in distribuzione 0 1 da noi arriva appunto questo killers of the flower moon ed è un film come ho detto che spezza con i canoni forse di scorzese in un certo senso di regia e fa bene per proporre una storia in queste tre ore un'epopea incredibile e che si porta avanti nel tempo e che racconta appunto la storia basilare di quella di leonardo di caprio che si chiama ernest burkhart è praticamente del reduce di guerra che torna dallo zio nella città dove è cresciuto filefix in oklahoma praticamente torna dallo zio interpretato da robert de niro che praticamente ha un po in mano questa città che è una città molto particolare dove il nostro robert de niro viene chiamato da king anche appunto e da di caprio che lì anche il fratello cosa succede praticamente e questo paese è particolare proprio perché praticamente è stato dato agli indiani perché non c'era niente quindi era considerato una riserva e territorio non americano e a un certo punto presente della storia però è venuto fuori che c'era il petrolio e quindi gli indiani che possedevano la terra sono diventati ricchissimi e quindi cos'è successo che praticamente l'uomo bianco si è trasferito lì e per insomma per accumulare i soldi degli indiani e in quale modo noi scopriamo specialmente nello sposare uomini o donne appunto della tribù può e farli fuori tanto nessuno ca un indiano morto e quindi prendersi tutti i soldi diritti sul petrolio e in questo de niro che si fa chiamare dei king è in realtà quello che ha la mano della città in mano e di caprio inizierà a fare lavoro sporco per lui la prima cosa nel quale verrà obbligato seppur da una parte anche innamorato a sposare appunto una delle sorelle più ricche del del paese molly appunto interpretato come ho detto alla stragrande e quindi il film poi parte appunto con il nostro che si sposa con molly e tutto quello che succederà in questa epopea incredibile va narrata poi in maniera mostruosa da un martin scorsese in una forma smagliante ripeto una forma smagliante con un film che può essere accostato in un certo senso per il fascino sulla perdita di un certo tipo di virginità di una nazione al petroliere forse poi thomas anderson per forza espressiva visiva e anche crudeltà dei personaggi questo è un film dove tranne forse uno due personaggi è un mondo devastato non pensate di trovare buoni cattivi non pensate di trovare eroi in questo film è un film fatto essenzialmente di una costruzione prima di tutto è diciamo così di costumi e scenografie che lascia senza fiato proprio per la bellezza del tutto perché non si riesce mai a staccare gli occhi da ogni piccolo dettaglio che è curato in maniera cubricchiana è una profondità di campo incredibile in questo paesino ogni cosa è credibile al mille per mille che sia uno specchietto di una macchina uno scarpe una scarpa uno sguardo un vestito tutto in manoscorzio di questo film secondo me diventa veramente un film incredibile proprio a livello visivo una fotografia straordinaria un rodigo prieto che ci riesce a regalare tutte le forme e sono tante questo film assume attraverso appunto una narrazione che credo da parte mia come l'ho vista io va sempre a salire una narrazione che cresce cresce con il ritmo e cresce con la regia appunto che ripeto che elimina in alcuni punti monte parti barocche delle scelte di scorzese per concentrarsi specialmente nella prima nella prima parte sui personaggi descrivendo nella maniera straordinaria proprio per come sono messi in scena per gli atti che fanno e per gli sguardi che si scambiano e tutta la parte appunto del nostro di caprio insieme alla protagonista è straordinaria proprio perché questa attrice comunque accende lo schermo un'attrice veramente bravissima incredibile sia nelle parti di sofferenza che nelle parti di felicità che nelle parti d'amore ed è incredibile proprio perché riesce a riassumere in questo modo taciturno in questo suo modo di essere tutto l'opposto di quello che è in realtà quello che è intorno il rumore il caos infatti è importante quelle due o tre scene in cui si tappa le orecchie quando passano troppe macchine quando parte la gara per esempio nel primo incontro bellissimo con di caprio e quindi poi il film lentamente assume sempre più i toni del nero del noir fino all'arrivo chiaramente di una ricerca di chi sta facendo questi omicidi in questa cittadina che sono e come ho detto praticamente nemmeno caati dalla polizia locale che chiaramente fa parte del gioco quindi un film che in realtà dimostra attraverso un modo cinematografico totale con un ritmo che sale come ho detto sempre di più con una regia che riesce a prenderci sempre è caldissima che che entra dentro lo spettatore con scene incredibili come quelle degli omicidi che non vengono mai quasi mai riprese in campi contro campi ma sempre in campi larghi la violenza tra l'altro stavolta è scorzese della trattiene in un certo senso pur mostrando gli effetti se noi notiamo le riprese in cui vengono uccisi vari personaggi sono quasi sempre a distanza non c'è mai la botta ravvicinata non si cerca quasi mai la violenza pura se non nell'esposizione del cadavere di almeno una vittima ma per il resto scorzese in realtà mette la violenza fuori dallo schermo fuori dallo schermo ma ci riempie in realtà il di violenza nel raccontare un personaggio come quello di De Niro e che sembra essere un personaggio in un certo senso ambiguo sì ma donatore ma in realtà e poi arriva a in certi punti ci sono certe frasi certe soluzioni in cui è netta ed è scorsesiana di cosa in realtà è stata fatta all'etnia dei nativi americani c'è poco altro da dire e quindi un De Niro che ha un personaggio credente questa volta un'altra volta come al solito l'importanza di dio l'importanza della preghiera e l'importanza anche del fatto che questi indiani siano praticamente tutti cristiani e che però continuano a mantenere alcuni modi di fare le loro credenze i capi villaggio che però anch'essi comunque ripungono fiducia in De Niro e anche quando sono messi alle strette in un certo senso e quindi è un film che lentamente si trasforma poi con l'arrivo appunto di alcuni agenti in un film ancora più diciamo nel terzo atto di ricerca un noir puro in un certo senso quasi si avvicina al thriller la costruzione un'altra volta registrica continua a cambiare di scorsese muta muta con i tre atti netti e distinti e si riesce a sempre a capire perché fa determinate scelte primo perché tre ore e venti di film pare un'ora e un quarto cioè lo guardi non riesci mai a staccarti nella prima parte riesce a condizionare talmente bene lo spettatore attraverso dei personaggi così ben costruiti che non puoi che non seguirli affezionarti e ripeto e la messa in scena è talmente perfetta e precisa ma mai pomposa che a un certo punto ti sembra di essere entrato lì e ti senti in colpa per quello che sta succedendo perché ti senti in colpa come parte di un qualcosa che anche se non è colpa nostra te ne senti uguale perché è questo anche l'intento del film far capire la potenza e la portata di quello che ci siamo dimenticati ecco cosa ancora più importante che il film ci vuole dire su questo punto ci siamo anche dimenticati di ciò l'abbiamo fatto diventare uno spettacolo di teatro uno spettacolo della radio è come in una scena bellissima del film dove scorsese farà un grandissimo cameo sentitissimo in tutto questo tutti gli altri attori di coltorno sono fantastici tutti veramente e poi scorsese piano piano che dopo la presentazione dei personaggi quando insomma il nostro si fa una famiglia il tempo passa incomincia sempre più a darci questo spessore di questo personaggio di caprio un personaggio debole un personaggio che non riesce mai a fare davvero quello che deve fare proprio perché sembra voler quasi scolparsi e dare tutte le colpe agli altri quando in realtà è complice sempre e comunque dello zio che comunque è veramente mefistofelico nel suo modo di poter ribaltare ciò che è in campo quando c'è bisogno che parli la lingua indiana parla la lingua indiana quando c'è bisogno di pregare prega quando c'è bisogno di fare il sindaco quasi fa il sindaco è un personaggio clamoroso di descrizione appunto di un certo tipo di capitalismo che stava arrivando a deflagrare tutto e anche le vite non importava proprio niente di niente altra cosa su cui riflette come avrete tutto su games of new york e su molti altri film ma anche casino è la possibilità di trovare armi la facilità con cui in questo paese tutti sono armati hanno almeno due tre pistole quindi gli omicidi sono all'origine del giorno e questi è praticamente quando fanno festa sparano le campane le campanelle del paese una follia totale sembra di essere in un certo senso all'interno di un qualcosa che racconta però altro perché poi c'è il provvizionismo chiaramente come vediamo poi si passa sempre attraverso fasi come l'arrivo di jade gauruver l'fbi una cosa che era in realtà nel romanzo principale la base principale mi hanno detto perché non ho letto però ho letto che il romanzo è molto più sul protagonista diciamo l'ispettore dell'fbi qui invece chiaramente è di caprio insieme a deniro e dalla splendida lily gladstone che ripeto devo ripetere perché per me è una sorpresa assoluta riempie lo schermo ma come tutti nella ricostruzione ripeto è perfetta e tutto quello che io cerco nel cinema quando mi deve dire qualcosa è qui tutto quello che volevo proprio in un film che scorsese gira mescolando momenti in cui ci può essere ripeto un certo tipo di voglia di ritorno a delle atmosfere numara la shutter island dove c'è dentro però una voglia anche di raccontare la storia all'america attraverso i suoi miti come gangs of new york dove c'è potrebbe essere in silence è un film che mescola tante ambizioni del nostro scorsese tutte andate a segno a me sono arrivate tutte tutta la sua voglia di parlare appunto della deriva della distruzione di un certo tipo di capitalismo tutta la voglia di parlare della religione e della forza che questa religione ha in sé che nei film mette sempre in dubbio ed è una cosa bellissima e attraverso appunto gli atti degli umani non tanto quello di dio che non viene quasi mai messo in dubbio ma è l'umanità che viene messa in dubbio per quegli atti che fa e quindi questa mettere in bocca a questi gangster a questi da sempre nel suo cinema a questi personaggi completamente di fuori sempre la parola dio è una cosa che rende il tutto ancora più credibile oltre appunto all'attacco totale al capitale oltre a tutto di questo tipo che distrugge un'etnia distrugge chiunque in questi osage che praticamente sono stati deflagrati proprio per il petrolio venivano sposati e ci sono delle scene glaciali ripeto ma non glaciali perché sono troppo violente ma perché rimani basito dal fatto che tutto quello che stiamo vedendo in realtà è veramente accaduto e che scorsese l'ha ripreso in tale maniera cioè con una perfezione ripeto stilistica incredibile con un ritmo che sale sempre di più col montaggio della nostra telmona schulmacher che questa ragazzi è 40 anni 50 tanto cazzo è che lavora con il grandissimo scorsese è una delle artiste più grandi del cinema lavora in maniera stupenda e non si può non citare la musica di questo film che è a dir poco incredibile roby robertson ha fatto un lavoro mostruoso nelle scene enfatiche riesce a enfatizzare senza mai diventare pomposo e barocco nelle scene in cui siamo in tensione la musica è quasi carpenteriana mi ha ricordato una psycho killer di tolkinets rallentato con quel basso compulsivo e ossessivo è una musica che ti pervade e fa capire l'idea di cosa nasce dietro a un film così spregiudicato e importante da un autore così importante anche lui che sembrerebbe aver raggiunto l'età in cui dice io faccio proprio quello che voglio mostro quello che voglio e faccio vedere ciò che forse nessuno vuole vedere perché ripeto questo è un film che mostra un ginecidio che sembra essere quasi dimenticato da tutti in un certo senso e quindi per me è un film che lavora su tutti i punti in maniera eccellente quando fanno saltare per aria la casa di alcuni personaggi non sto a dirvi chi è una scena anche quella di una forza proprio estetica e al tempo emotiva che lascia un'altra volta a Basiti ripeto io questo film l'ho visto praticamente 12 ore fa quindi è una recensione veramente a caldissimo e posso solo dire che ancora adesso parlando del film mi sento dentro un'altra volta come mi sono sentito detto dentro dopo la proiezione quando ho dovuto parlare al pubblico che era presente e sono rimasto ghiacciato in un certo senso all'inizio perché ero ancora dentro il film non riuscivo a non sentirmi in colpa e non riuscivo a non ancora modulare e percepire tutto quello che Scorsese mi voleva dire e ancora adesso lo sto facendo e lo sto facendo con voi quindi che dirvi di più non altro da dirvi Scorsese questo è un film meraviglioso che se è un capolavoro non lo dire al tempo per me un film di questo tipo qui lascia veramente soddisfatti appieno e rimane sicuramente uno dei titoli migliori dell'anno fra i due tre migliori dell'anno se non il migliore vedremo ma non me ne frega un cazzo le classifiche rimane il fatto che questo è un film incredibile che un'altra volta dimostra che un artista come Scorsese nonostante ho fatto la monografia se volete c'è sul canale andatela a vedere cito un mesetto fa ha fatto sì due tre scivoloni ma il resto della cavriera è veramente intoccabile e qui siamo a dei livelli secondo me top 5 fate un poino voi tutti al cinema fate incassare questo killers of the flower moon il più possibile perché uno di quei film che vanno portati assolutamente allo sguardo di tutti perché uno di quei film che si merita assolutamente di essere apprezzato da tutto il pubblico del mondo il più possibile proprio perché un'opera d'arte le opere d'arte dovrebbero essere viste da più gente possibile e immaginabili quindi che vi posso dire di più il link che è qui sotto no perché chiaramente frusciante a cina quindi il link per comprare il dvd o blu ray non esiste però esiste il pulsante qui sotto per patron per donare appunto per avere le vostre mini recensioni poi iscrivetevi al canale il pulsante del mi piace poi insomma qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube e qui sulla barra poi iscrivetevi su facebook e su instagram seguitemi così per lo meno sapete che cazzo faccio a giro per l'italia e insomma non ho altro da dire che questo killers of the flower moon probabilmente meritava ancora più e discussione meritava ancora più parole ma io le ho finite perché lo voglio rivedere altre 3 4 mila volte forse a quel punto ne riparlerò nel meglio appunto di fine anno e perché ne ha voluto probabilmente altre visioni a quel punto sarà ancora più chiaro quanto il film adesso mi sia sembrato così enorme potrà diventare più o meno insomma quello che sarà alla terza quarta visione per ora vi dico almeno una la merita totalmente non vi perdete questa cosa perché è un'opera secondo me che un'altra volta dimostra tutto la grandiosità di scorsese e tutta la grandiosità della bellezza appunto della sala del cinema perché questo è un film che va visto lì perché ad una spettacolarità anche visiva di quelle che non lasciano mai indifferenti un film che ha lasciato già un segno